Nuovo provvedimento di sequestro eseguito dalla DIA di Messina a carico dell'imprenditore di Sant'Agata Militello Antonino Smiriglia. L'uomo, già nello scorso mese di luglio, fu raggiunto da analogo decreto di sequestro per un valore complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro. Questa volta la misura di prevenzione riguarda un'azienda, un fabbricato e 5 terreni tra i comuni di San Marco d'Alunzi e Sant'Agata Militello per un valore complessivo pari a 1 milione e 100 mila euro. A sollecitare il sequestro, la direzione distrettuale antimafia di Messina guidata da Maurizio De Lucia. Il filone investigativo è lo stesso che portò all'esecuzione del primo provvedimento. Antonino Smiriglia, 53 anni, è ritenuto dagli inquirenti vicino alla famiglia mafiosa di Mistretta, capeggiata dai fratelli Sebastiano e Pietro Rampulla, il primo deceduto, l'altro condannato all'ergastolo per la strage di Capaci. A carico di Smiriglia sono in corso procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Patti per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ma non risultano condanne per reati associativi o connessi alla criminalità organizzata a seguito del suo coinvolgimento negli anni nelle varie operazioni Omega, Scipione, Dioniso, Autostrada e Montagna. Secondo gli investigatori però, Smiriglia, in forza della sua vicinanza alla famiglia di Mistretta, avrebbe ottenuto attraverso le sue imprese svariate commesse pubbliche i cui introiti avrebbero in parte rimpinguato le tasche di Cosa Nostra. L'ultimo decreto di sequestro mette quindi nel mirino la società Sud Marmi SRL di San Marco d'Alunzio, per la quale, sostiene l'accusa, Smiriglia con la compiacenza di fidati prestanome, tra cui congiunti e collaboratori, sarebbe riuscito a schermare i suoi interessi imprenditoriali mediante l'acquisto del pacchetto societario, formalmente non registrato, entrato in suo possesso da oltre tre anni attraverso la Calcem SRL, oggetto del precedente sequestro.